Ho piacere presentarvi il progetto Starta la collaborazione. È un'iniziativa che offre conoscenze inedite e strumenti efficaci per sviluppare la nostra capacità di collaborare con gli altri. Il progetto viene realizzato dal Centro Sud di Podresca con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Oggi stiamo vivendo un momento storico molto difficile e la collaborazione di ognuno di noi è veramente importante. Dobbiamo concepire la collaborazione come una priorità emergente, qualcosa di cui abbiamo bisogno. Collaborare significa migliorare. Ogni volta che due o più persone riescono a agire in pieno accordo portano dei miglioramenti e anche aiutano a prevenire delle difficoltà. Nel nostro progetto abbiamo concepito la collaborazione come un'abilità di relazione, ovvero un'abilità della persona che può essere studiata, conosciuta di più, allenata e applicata nelle esperienze quotidiane. Grazie a questo percorso otteniamo risultati di valore, sia per noi, per il nostro benessere, ma anche per il nostro contesto, per la famiglia, per la comunità di cui siamo parte. Le finalità del progetto sono contribuire allo sviluppo del volontariato, al miglioramento delle relazioni tra le persone e anche introdurre la collaborazione come un tema di studio, come esperienza positiva nella vita familiare, scolastica e anche nella vita della comunità di cui siamo parte. Le attività che abbiamo predisposto sono eventi di comunicazione sul tema della collaborazione, laboratori per le scuole, anche con lezioni online, e il convegno insegnare la collaborazione alle nuove generazioni. Lo scopo del convegno è raccogliere delle buone prassi, documentarle e in seguito diffonderle e renderle accessibili. Abbiamo predisposto un sondaggio per documentare le esperienze delle persone, perciò verificare dove ci sono collaborazioni che già funzionano molto bene e noi vogliamo valorizzarle, dove ci sono invece aree di difficoltà che è necessario affrontare e superare. Sul sito podresca.it trovate il link dedicato e potete rispondere al nostro questionario. Il mio augurio è di essere persone collaborative e di poter essere fieri di vivere in una società collaborativa. Grazie a tutti. Grazie a tutti